Ciao, mi chiamo Anastasia Bianchi, ho 32 anni, sono nata a Porto Maggiore Ferrara da una mamma russa, un papà italiano, conosco tutte e due le lingue e parlo anche l'inglese perché l'ho sempre studiato e vissuta a New York un po' di anni. Ho una sorella gemella. Nel mio italiano adesso pratico tanto il mio accento perché vorrei anche fare dei ruoli dove non devo sempre fingere un accento russo, all the last e apprezzare molto questa cosa. Le mie passioni sono recitazione prima di tutto, poi pittura, sono una pittrice, yoga, psicologia, ho studiato psicologia, mi ha aiutato molto nel corso della mia vita, ha aiutato anche molto alle persone che sono a fianco a me, giustamente, ho fatto pratica su di loro. Le mie passioni altre sono pugilato, tennis, nuoto, mi piace suonare l'ukulele, ho studiato la chitarra, canto, ballo e tutte queste cose che gli artisti amano fare, esprimersi. Questi sono i miei profili. Grazie mille di aver guardato la mia self-tape, vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!